Così come è avvenuto il 12 e il 13 aprile scorsi anche per questo fine settimana e per il ponte del primo maggio, le forze dell'ordine e le amministrazioni locali rinnoveranno le operazioni di controllo straordinario del territorio e gli accessi ai luoghi preferiti dei vacanzieri, quindi le strade che conducono in particolare alla costiera amalfitana e a quella cilentana, ma non solo. Massima attenzione anche per la viabilità verso l'entroterra, preferito ad esempio per i picnic. Un migliaio di agenti che saranno mobilitati nei vari punti del territorio. In costiera amalfitana massima attenzione a tutti i varchi, non solo a Vietri sul mare, ma anche al valico di Chiunzi, a Gerole, a Positano, a Vichequenze, per bloccare l'ingresso di chi, in violazione agli attuali dispositivi, volesse comunque approfittare delle belle giornate per lasciare il proprio domicidio. Così come è avvenuto già per Pasqua, sarà riproposto questo sistema di controllo che integra le polizie municipali con le forze dell'ordine, l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato e servirà ovviamente a disincentivare qualsiasi forma di ingresso in costiera amalfitana che non sia di carattere strettamente necessario. Per tutti i varchi, i varchi o i varchi? Assolutamente sì, è un esperimento che ha avuto un risultato eccellente, lo riproporremo, poi è chiaro che si aggiungeranno altre misure straordinarie come l'utilizzo di droni in alcune municipalità, il supporto aereo da parte di arma dei carabinieri e polizia di Stato che controlleranno le spiagge anche con elicotteri e servizi anche via mare, anche la guardia costiera che sta facendo un lavoro estremamente meticoloso di controllo delle spiagge. ritengo che il meccanismo di controllo sia stato uno degli elementi che ha favorito di più la non trasmissione del coronavirus nell'ambito della costa d'Amalfi.